Ucraina, l'appello della comunità gelese, non lasciateci soli, la guerra in Ucraina sta tenendo con il fiato sospeso l'intera comunità mondiale, le immagini dei bombardamenti russi stanno scatenando rabbia e indignazione ma è tanta la paura che una possibile escalation del conflitto possa degenerare in una guerra globale. Sono ore di angoscia anche per la numerosa comunità ucraina che vive nel nostro paese e che in questi giorni sta col fiato sospeso nell'attesa di ricevere notizie confortanti dalle famiglie. Noi abbiamo incontrato due di loro. Inizia la quaresima, veglia di preghiere e ospitalità per il popolo ucraino. Con l'inizio della quaresima i parroci della città chiedono di trasformare la preghiera in opere concrete, le parrocchie di Gela si mobilitano per accogliere i rifugiati che scappano dall'Ucraina e invitano i cittadini a aprire il cuore e le case. In Cardona, lontano dall'Udc, in maggioranza nessuna ambiguità. Il consigliere comunale Salvatore Incardona sembra ormai sempre più distante dall'Udc. I rapporti con il partito sono ai minimi e il centrista valuta anche altre opzioni. Inoltre ha confermato sostegno il sindaco Lucio Greco ma chiede che si faccia chiarezza tra gli alleati. Bonifica è presentata un'interrogazione, 500 milioni per i siti orfani. Sono due progetti di messa in sicurezza di ex discariche industriali finanziati a livello locale. Riguardano i siti di Cipolla e Marabusca. Il consigliere comunale Virginia Farruggio ha presentato un'interrogazione per capire a che punto siano le procedure avviate in municipio. Il Ministero della Transizione Ecologica invece ha rilasciato un decreto che definisce criteri per i finanziamenti e le bonifiche dei siti orfani, compreso il SIN di Gela. Pontile Sbarcatoio, no alla demolizione, sia al recupero e alla tutela. Si è costituito questa mattina il Comitato per la salvaguardia del Pontile Sbarcatoio al fine di scongiurare la demolizione di un importante simbolo storico per la marineria e lo sbarco degli alleati. I fondi da parte della Regione sono stati stanziati ma le iniziative che il Comitato intende concretizzare sono proprio mirate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica per il recupero e la tutela del Pontile. Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo il nostro notiziario parlando delle conseguenze dell'attuale conflitto tra Russia e Ucraina. La guerra in Ucraina sta tenendo di fatto con il fiato sospeso l'intera comunità mondiale. Le immagini dei bombardamenti russi stanno scatenando tanta rabbia e tanta indignazione, ma è tanta anche la paura che una possibile escalation del conflitto possa degenerare in una guerra globale. Sono ore di angoscia anche per la numerosa comunità ucraina che vive nel nostro paese e che in questi giorni sta in ansia nell'attesa di ricevere notizie confortanti dalle proprie famiglie. Noi abbiamo incontrato due di loro. Vediamo. Sono giorni di angoscia per il popolo ucraino dopo l'inizio dei bombardamenti russi che hanno già fatto diverse vittime e non solo militari ma anche civili e soprattutto bambini che ancora una volta pagano colpe che non hanno. In molti sono riusciti a lasciare il paese, altri invece vivono col terrore dei bombardamenti e di una guerra che al momento sembra non avere fine. Sono ore di angoscia anche per la numerosa comunità ucraina che vive nel nostro paese e che in questi giorni sta col fiato sospeso nell'attesa di ricevere notizie confortanti dalle famiglie. Anche a Gela c'è una nutrita comunità, circa 20 persone che vivono e lavorano in città da anni. Oggi abbiamo incontrato due di loro, Anna e Anastasia, due giovani ucraine che hanno voluto lanciare un appello alla solidarietà alla popolazione gelese. Anastasia è qui da dieci anni ma è nata a Kiev, la capitale ucraina, prima vera vittima dei bombardamenti russi. Molto pesante perché non so come si interessa una persona che se non lo sa che esiste ancora la sua casa o no. Tu chi hai lì a Kiev? Io ho i miei parenti, i miei cugini, le mie zie, ce l'ho anche la mamma ma grazie a Dio lei adesso sta venendo verso me per raggiungere, sta attraversando confine polacco per venire qua, anche mio fratello. Invece papà non riesce a sentirlo da quanto tempo ormai? Già da un paio di giorni. Sei preoccupata? Molto. Anna invece è di Poltava, quasi 700 chilometri a sud di Kiev. Lì la situazione è ancora tranquilla ma l'ansia per un'escalation del conflitto è alta e Anna la racconta ogni giorno ai suoi quasi 30.000 follower su Instagram, cercando di sensibilizzare quanta più gente possibile al dramma che si sta svolgendo a pochissimi passi da qui. Mi sento molto male, veramente io ho ripresa adesso questo giorno, questi due giorni, prima non poteva fare niente, solo piangeva, poi mi è venuta a testa che non devo piangere, devo fare qualcosa per aiutarsi a me. Chi hai tu nel tuo paese in questo momento? Io ce l'ho tutti da mio paese, mia mamma, mia zia, fratello, io qua solo con mia figlia diciamo, che tutti i miei e Ucraina in questo momento. Cosa ti raccontano i tuoi, li hai sentiti ultimamente? Allora, io non guardo notizie perché tante notizie non le fanno vedere tutta la verità, io ce l'ho tanti follower, tanti amici da tutta Ucraina, io ce l'ho una amica che lavora a Pompieri e Kharkov, lei mi ha raccontato una cosa molto brutta che dice da tutto il tempo che ho lavorato, lei mai ha visto lacrime di suoi colleghi perché si morono bambini, si morono persone civili, questo è già un fascismo secondo me. E' un appello alla pace, la solidarietà arriva anche da Caserta, da Tanassi Kosova, oggi in forza alla Casertana, ma uno dei protagonisti del gelacalcio della Serie D. Anche Tanassi ha voluto dare la propria testimonianza in un momento così difficile per il suo popolo. Una preghiera sempre, un pensiero sempre, ogni giorno per queste situazioni, per queste situazioni che ci coinvolge così da vicino. La maggior parte della mia famiglia sta qua, però ti dico, ho i miei nipotini, ho la mia cognata, i miei parenti stessi, comunque non dico che sono genitori, però sono i miei parenti stretti e grandi amici che sono invece a Kiev sotto tutto il conflitto a fuoco e ti posso dire che è abbastanza dura come cosa. Le guerre ci saranno e ci saranno sempre. Questo innanzitutto bisogna essere consapevole, perciò bisogna sempre di essere disponibili per tutte le persone che hanno la nostra stessa fortuna e di aiutarle in qualsiasi modo e con la massima disponibilità perché non si sa mai, qualcuno potrà avere sempre bisogno di una vada. La Caritas Salesiana intanto, insieme alla Croce Rossa italiana e con il supporto dell'amministrazione comunale, sta organizzando una raccolta di beni di prima necessità, soprattutto medicinali, da spedire in Ucraina. Il materiale può essere consegnato presso il cortile di Via Olanda 22, dove verrà raccolto dal personale della Caritas. La Croce Rossa ha anche attivato un IBAN per le donazioni all'indirizzo www.cri.it slash emergenzaucraina. Mandare cibo e vestiti io penso non utili in questo momento perché non possono arrivare o ci vuole troppo tempo. Invece medicina è una cosa che serve veramente e anche perché adesso stanno ammazzando i civili, le persone proprio che non c'entrano niente con la guerra. E noi vogliamo chiedere, sensibilizzare il cuore del popolo di Gela e anche tutti gli italiani, essere comprensivi in questo e avere il cuore aperto per aiutarci. Vi ringrazio tantissimo. Ecco l'inizio della Quaresima. I parroci della città chiedono di trasformare la preghiera in atti concreti. Le parrocchie di Gela si mobilitano per accogliere i rifugiati che scappano dall'Ucraina e invitano i cittadini ad aprire sia il cuore che le case. Vediamo. È trascorso una settimana da quando Putin ha deciso di invadere l'Ucraina e da allora una nuova paura è nata nel cuore dei cittadini. In questa settimana gli scenari presentati dalle testate nazionali e dagli inviati descrivono la tragica situazione del popolo ucraino, costretto a lasciare la propria casa per scappare dai bombardamenti che, insistentemente, attaccano i centri abitati. Sentiamo il bisogno anche di esprimere la nostra vicinanza a questo popolo che sta soffrendo terribilmente una guerra ingiusta. Dire una guerra ingiusta per me è sbagliato perché ogni guerra è ingiusta, perché è frutto del fallimento dell'uomo. La parrocchia San Giacomo ha dato la disponibilità ad accogliere qualche famiglia di ucraini che sono fuggiti dalla propria terra. E quindi sostenere così un segno congreto della nostra vicinanza a questo popolo che sta subendo questo massacro. nel modo più intenso e più profondo possibile aprire anche le chiese, le parrocchie, le case di tante famiglie che saranno disponibili, ma aprire soprattutto con esse il cuore, perché non si può restare eterno e non si può rifiutare una grazia del genere, accogliere il Cristo nelle nostre case, nel nostro cuore. Anche Papa Francesco, incurante della gonalgia al ginocchio che gli aveva impedito di presenziare a Firenze, ha espresso la sua preoccupazione recandosi all'ambasciata russa presso la Santa Sede. Da allora l'invito costante alla preghiera del Pontefice è stato accolto da tutte le parrocchie italiane e anche nel nostro territorio i parroci hanno organizzato veglie di preghiera, adorazioni e messe per la pace. Abbiamo voluto fare una fiaccolata perché la celebrazione è stata svolta nel buio e c'erano soltanto queste piccole fiammelle che animavano i volti comunque sbiaditi della gente. La commozione perché abbiamo avuto la possibilità di parlare direttamente con una testimone e una telefonata che è arrivata dall'Ucraina con una nostra sorella che ci ha raccontato in viva voce quello che stanno vivendo, il dramma che stanno vivendo. E poi un'immagine suggestiva che ho voluto anche condividere su Facebook. Questa bandiera che veniva proiettata sul muro del sagrato, sul lambone della parrocchia, sul catino absidale c'era la croce con i colori del giallo e l'azzurro che la nostra sorella Natascia ci ha spiegato essere il cielo dell'Ucraina e i campi dorati del suo paese. E' la croce che si vestiva dei colori di questi crocifissi. Abbiamo fatto una raccolta, anche se di pochi fondi, però già questi soldi sono arrivati a destinazione. Ieri sera è stato fatto già un bonifico ai salesiani dell'Ucraina perché ospitano tanti bambini che hanno bisogno di tutto del necessario. E parliamo invece di emergenza pandemia. Vediamo il report quotidiano da parte di Asp. Il contagio da Covid in città sembra ormai rimanere piuttosto stabile. Nelle ultime 24 ore sono 66 i casi nuovi in isolamento domiciliare, 54 invece i guariti. Non ci sono nuovi ricoveri. In totale la soglia dei positivi è ferma a 980. Cambiamo argomento e parliamo di politica perché il consigliere comunale Salvatore Incardona sembra sempre più distante dall'Udc. I rapporti con il partito sono ai minimi e il centrista valuta anche altre opzioni. Intanto ha confermato il sostegno al sindaco Lucio Greco ma chiede che si faccia chiarezza tra gli alleati. Vediamo. La sua fiducia politica al sindaco Lucio Greco l'ha rinnovata all'indomani dell'approvazione del consolidato portato in aula consigliare dall'assessore Danilo Giordano suo riferimento in giunta. Il consigliere comunale Salvatore Incardona però ormai sembra molto più propenso a muoversi senza dare troppo peso alle effigie politiche dell'Udc. Da tempo è calato il gelo tra il consigliere e i vertici territoriali del partito. Probabilmente Incardona si sarebbe aspettato una qualche reazione politicamente pesante anche dalle stanze del partito regionale. Non ha mai condiviso l'azzeramento deciso dal coordinatore provinciale Silvio Scichilone. Le interlocuzioni anche di recente ha continuato ad averle con l'assessore regionale Mimmo Turano. Per il resto quasi archivia la sua esperienza nel partito parlando di totale immobilismo. Registra infatti l'assenza di qualsiasi iniziativa da parte proprio del partito. Non esclude l'ipotesi di lasciare l'Udc e una valutazione che sta comunque facendo. Ribadisce di non conoscere i programmi del partito anche nel breve periodo. Conferma che sta valutando parecchie soluzioni. Il consigliere ha avuto contatti e interlocuzioni con esponenti di altri partiti e gruppi politici. Pensare ad una sua diversa collocazione non è affatto imprudente. Mentre si trova a definire la strategia politica non trascura però quanto sta accadendo in consiglio comunale tra le fila dei progreco. Incardona ha sempre sostenuto l'amministrazione nel sindaco Lucio Greco e non si è tirato indietro neanche davanti al recente consolidato 2020 un altro atto finanziario arrivato dagli uffici del settore bilancio affidati all'assessore Danilo Giordano sul riferimento del resto. Ha ringraziato personalmente proprio l'assessore senza però alcun richiamo al partito. Per il resto Incardona sostiene il progetto del sindaco ma bisogna fare chiarezza. Attende un confronto in maggioranza. E' certo che quello che è accaduto per il voto sul consolidato non deve più verificarsi. Secondo Incardona infatti tra le fila della maggioranza bisogna superare ogni ambiguità. Bisogna quindi capire chi voglia effettivamente proseguire nel progetto del sindaco Lucio Greco. Sul consolidato i numeri dei progreco appunto si sono dimostrati assai fragili e Incardona sembra temere il doppio binario politico seguito da chi si dichiara in maggioranza ma poi sceglie di avere mani libere quando si tratta di sostenere la giunta. E restando nella politica abbiamo la notizia del consigliere comunale Rosario Trainito che adesso ha ufficializzato il suo passaggio a Forza Italia. Ritorno a casa. Così dice dopo aver incontrato ieri il presidente Lars Gianfranco Micciche è stato infatti il coordinatore regionale del partito a sigrare l'ingresso ufficiale di Trainito. Stasera in consiglio comunale lo stesso Trainito dichiarerà la sua adesione al Gruppo Azzurro insieme all'altro consigliere Carlo Romano. In sostanza Forza Italia che stava facendo i conti con l'addio dell'ex capogruppo Luigi Di Dio nell'arco di una manciata di settimane si ritrova nuovamente con due consiglieri all'attivo. A Palermo come vedete nella foto oltre a Trainito c'erano anche il parlamentare regionale Michele Mancuso l'assessore Nadia Gnoffo l'altro consigliere Carlo Romano e i dirigenti locali azzurri. Cambiamo argomento e parliamo di bonifiche. Sono due progetti di messa in sicurezza di ex discariche industriali finanziati a livello locale riguardano i siti di Cipolla e Marabusca il consigliere comunale Virginia Farruggia ha presentato un'interrogazione per capire a che punto siano le procedure avviate in municipio. Il Ministero della Transizione Ecologica invece ha rilasciato un decreto che definisce i criteri per i finanziamenti delle bonifiche dei siti orfani compreso anche il SIN di Gela. Vediamo. I fondi che in totale ammontano a circa 23 milioni di euro sono stati stanziati autorizzati per la messa in sicurezza di due ex discariche industriali presenti sul territorio per Cipolla e Marabusca si attendono interventi ormai da decenni. Questa volta a seguito di accordi di programma già sottoscritti e Palazzo di Città doversi fare carico di coordinare tutte le fasi i primi cronoprogrammi erano stati stilati lo scorso anno. A che punto siano le procedure se lo chiede il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Virginia Farruggia che ha presentato un'interrogazione e lunedì prossimo porterà la questione alla sise civica proprio lo scorso anno anche per altri siti contaminati del territorio regionale l'assessore Daniela Bagliere aveva dato tempi precisi anzitutto per concludere la progettazione. A Palazzo di Città proprio questo è uno dei punti di maggiore difficoltà visto che non ci sono tecnici interni che possono dedicarsi esclusivamente ad attività di questo tipo peraltro assai complesse. L'ipotesi che si fece strada era di un affidamento a società esterne specializzate nella progettazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza da allora poco sembra essersi mosso Farruggia chiederà in aula al sindaco Lucio Greco e all'assessore Cristian Malluzzo se si sia proceduto alla nomina del RUP e alla definizione del documento preliminare all'avvio della progettazione. Le aree delle due ex discariche industriali sono tra le più a rischio soprattutto a causa di una contaminazione che ha toccato gli strati sotterranei. Lo smaltimento di sostanze pericolose e di scarti della produzione di idrocarburi avveniva senza alcuna preliminare impermeabilizzazione dei terreni. Solo di recente si è proceduto a recintare la zona della discarica Cipolla al cui interno spesso pascolavano le greggi dei pastori dell'aria. Sempre lo scorso anno il Ministero della Transizione Ecologica ha reso o no l'elenco dei siti orfani italiani quelli dove sono previsti interventi di bonifica e messe in sicurezza. C'è l'intero territorio del SIN locale pochi giorni fa dalla Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche dello stesso Ministero è stato rilasciato il decreto che definisce i criteri per l'ammissibilità e finanziamenti. Sono previsti fondi per 500 milioni di euro dalle misure del PNRR che riguardano proprio la bonifica dei siti contaminati. Le regioni e le province autonome hanno inoltrato l'elenco delle aree che vanno bonificate nella lista di quelli siciliani e presente l'intera area della SIN di Gela. Con il decreto appena pubblicato è stata definita la checklist per valutare il rispetto di tutti i requisiti. Uno degli ultimi passaggi sarà poi un piano d'azione che tocchi tutti i siti per le cui bonifiche sussistono i requisiti. E si è costituito questa mattina il Comitato per la salvaguardia del pontile sbarcatoio al fine di scongiurare la demolizione di un importante simbolo storico per la marivineria e per lo sbarco degli alleati. I fondi da parte della regione sono stati stanziati ma le iniziative che il Comitato intende concretizzare sono proprio mirate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica per il recupero e la tutela dell'importante struttura. Vediamo. No alla demolizione sia al recupero e alla tutela con questo slogan in una realtà dove la demolizione dell'importante testimonianza storica qual è il pontile sbarcatoio appare oramai inevitabile si costituisce il Comitato per la salvaguardia del pontile sbarcatoio riaccendendo così i riflettori sulla questione di un simbolo della città che a causa della reiterata mancata manutenzione da parte dell'amministrazione comunale è destinato a crollare su se stesso. Sensibilizzare l'opinione pubblica per il recupero e la tutela del pontile sbarcatoio è quindi l'obiettivo principale che si intende raggiungere. La storia e la presenza del pontile sbarcatoio è nella memoria di tutti noi soprattutto di quelli che abbiamo una certa età. Sono un insieme di motivazioni che non possono essere ignorate da chi di competenza per fare tutti i passaggi per ottenere quello che chiediamo quindi bloccare la demolizione e avviare la liter tecnico-amministrativi per dichiarare il pontile di Gela bene culturale da salvaguardare e quindi non da demolire ma da fare una ristrutturazione di restauro conservativo. Noi dovremmo coltivare la cultura marinara di Gela perché praticamente è stata grandiosa in tutti i sensi. dipende tutto da noi cittadini premere spingere verso questo obiettivo di salvaguardia del pontile di Gela che era ed è stato sempre da decenni e decenni un punto di riferimento per la città. Dal notevole valore storico per la marineria ma in particolare per la testimonianza dello sbarco degli alleati durante la seconda guerra mondiale il pontile sbarcatoio soggetto al trascorrere degli anni è abbandonato all'azione delle intemperie senza un minimo intervento di manutenzione e adesso destinato alla demolizione unica soluzione attuabile secondo l'amministrazione comunale che ha già ottenuto i fondi da parte della regione. Vero è che è stato deciso la demolizione dalla regione però come tutte le cose di questo mondo probabilmente è mancato sia un'interlocuzione adeguata con il territorio e quindi con la situazione della città di Gela ma sia credo anche è mancato un parere a nostro avviso doveroso da parte della sovrintendenza alla quale comunque chiediamo di diventare parte attiva in questo processo proprio con la salvaguardia. Informazione presso le scuole e raccolta firme online nonché un sit-in saranno alcuni dei passi che il comitato ha già programmato di concretizzare. Il comitato avanza anche la possibilità di aprire un confronto con i vari esponenti politici al fine di valutare un'alternativa alla demolizione. Non si può distruggere la storia soltanto demolendo come diceva l'ingegnere Morselli noi dobbiamo pressare per un progetto uno studio di fattibilità che comporti una parte di demolizione se è il caso se è indispensabile ma comunque la ricostruzione mantenendo un segno storico quello del pontile. Non si può ripeto pensare di demolire la storia di questa città senza realizzare niente. Noi ci apportiamo maledettamente anche se l'amministrazione in questo momento è totalmente silenziosa. la cronaca le fiamme hanno danneggiato nella notte la saracinesca di un'attività commerciale in corso Salvatore Aldisio l'incendio è stato appiccato poco dopo le 2 è stata presa di mira una rivendita di prodotti per il caffè sono partite le verifiche si tratterebbe di un'azione dolosa sul posto sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti sono in corso le indagini e si cercherà di individuare i responsabili forse anche analizzando eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Ci spostiamo a Macchitella parliamo del depuratore di Macchitella le carte del progetto dell'ampliamento del depuratore sono nuovamente in regione è prevista la fase di valutazione rispetto alle prescrizioni imposte lo scorso dicembre il commissario straordinario aveva approvato il progetto definitivo in vista della gara per i lavori il senatore grillino Pietro Lorefice sottolinea come i progetti in carico alla regione siano troppo spesso soggetti a rallentamenti vediamo il potenziamento del depuratore di Macchitella è un'opera tenuta sotto stretta osservazione tutti i passaggi burocratici sono stati coordinati dal commissario straordinario unico che è l'autorità nazionale intervenuta a seguito delle procedure di infrazione avviate dall'Unione Europea lo scorso dicembre proprio la struttura commissariale aveva rilasciato l'ultimo ok al progetto definitivo che prevede un rafforzamento dell'impianto destinato ad avere una capacità di 25.000 abitanti equivalenti solo in questo modo sarà possibile coprire aree della città che fino ad oggi non sono state servite è un progetto che ha seguito un binario comune con quello del raddoppio della capacità del sistema consortile all'interno della raffineria Eni le carte dell'ampliamento del depuratore di Macchitella sono nuovamente in regione il RUP del progetto ha presentato tutta la documentazione per la fase di verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto del giugno di un anno fa sono previste infatti diverse misure a tutela dei parametri ambientali e per l'osservanza della normativa in materia di depurazione così gli accertamenti sulle relazioni fornite e sui dati progettuali sono in corso affidati ai funzionari dell'assessorato regionale territorio ambiente l'impianto attualmente nella gestione di Caltaco in passato fu al centro di un'inchiesta condotta dai PM della procura a seguito di sversamenti di reflui in mare sul ciclo locale della depurazione è intervenuta anche la commissione parlamentare di inchiesta con un sopralluogo che risale a tre anni fa il progetto esecutivo è stato approvato proprio nel dicembre dello scorso anno attraverso la struttura commissariale la regione per il tramite della commissione tecnica specialistica aveva già rilasciato parere per l'esclusione dalla procedura di assoggettabilità via a seguito di un assestamento delle somme disponibili per il progetto l'ammontare complessivo tocca quasi 8 milioni di euro all'appotenziamento del depuratore di Machitella che per anni ha generato disservizi con pericolosi scarichi di reflui in mare è destinato un importo complessivo superiore ai 4 milioni di euro la fase di gara sarà affidata ad Invitalia che la coordinerà il senatore grillino Pietro Orefice che fa parte della commissione parlamentare di inchiesta nota più di una differenza fra l'iter per il depuratore di Machitella che si appresta la fase di gara e quello delle procedure coordinate dalla regione secondo l'Orefice quando si parla delle attività condotte dal commissario straordinario ci si trova davanti a procedure che comunque seguono le scadenze e vanno avanti i progetti che sono in capo alla regione invece tra questi il finanziamento per la nuova rete idrica a Manfria vanno sempre incontro a lunghi stop e ad attese infinite i lavori a Manfria seppur finanziati e con progetto già definito non sono ancora partiti lo scorso anno l'Orefice e il gruppo locale del Movimento 5 Stelle presentarono un report di tutti i progetti per la rete idrica e la depurazione coordinati alla regione ma fermi o addirittura con finanziamenti a rischio e la Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica Massimiliano Conti ha avuto incontri sui lavori per la rete idrica a Manfria che era stata annunciata sempre lo scorso anno con decreto della regione pare che i cantieri possano iniziare a breve in attesa di definire gli ultimi particolari anche sulla rete idrica a Manfria sono tante le attenzioni anche da parte del comitato Viviamo Manfria che arrivò a presentare un esposto in procura denunciando i troppi ritardi Bene, questo era il nostro ultimo servizio siamo in chiusura naturalmente se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quotidianodigella.it se invece volete rivedere o condividere i nostri servizi li trovate tutti sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Youtube Per il momento è tutto vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto alle previsioni meteo grazie per averci seguito arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti